ciao a tutti benvenuti nel secondo video del canale e oggi purtroppo siamo solo in tre ne manca uno manca Matteo che è andato via per i fatti suoi ci ha lasciato soli e oggi in questo video diciamo che vi facciamo vedere una parte della pulizia perché comunque i sentieri eravano mantenuti e poi facciamo vedere altri sentieri nostri e puliamo tutto poi per il momento c'è zona rossa facciamo vedere queste parti qua poi magari quando finisce tutto andiamo in altri posti anche più belli e dai adesso basta parole e vi lascio al video ciao 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 dimenticate di iscrivervi e attivare la campanellina e grazie a tutti per i centri iscritti